Come si possono preparare le associazioni al cambiamento? Innanzitutto è un cambiamento diverso a seconda dei limiti dimensionali, della tipologia di soci, della tipologia dei destinatari. Ai nostri associati la cosa che suggeriamo è innanzitutto di prendere bene consapevolezza di chi si è adesso, cioè chi sono i tuoi soci e perché, che tipo di vincolo hanno con te, che tipo di capacità decisionale, dove vengono prese le decisioni, qual è la modalità con cui l'associazione si finanzia. Innanzitutto una bella partenza e capire chi si è adesso bene. Una volta che si è capito questo si prende la riforma e si cerca di capire qual è il vestito più adatto, tenendo conto che il grande cambiamento probabilmente per tante delle associazioni, soprattutto quelle di volontariato, di promozione sociale e il fatto che bisognerà identificare bene qual è l'attività che prevalentemente ci aiuta a realizzare i nostri scopi, cosa che invece non era presente nella precedente disciplina.